Romana. Cambiamo argomento. L'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo, 150 mila in Italia, presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre. Ospite studio con noi c'è il Presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, benvenuto a Red News 24. Grazie, buongiorno. Dunque Presidente, partiamo dal vostro impegno di oggi, anche di fronte a queste nuove crisi umanitarie. È un impegno enorme perché credo che stiamo davanti a una delle crisi più importanti, quella della Siria degli ultimi decenni, quindi per noi come movimento internazionale sicuramente questa è la nostra priorità assoluta. Tutte le società nazionali stanno cercando di contribuire per dare una risposta, sia interna che esterna. Quello che ci preoccupa è che oggi vogliamo cogliere l'occasione per ricordare è come in questi tempi comunque stia venendo meno la ragione fondante, l'ispirazione che ci ha dato il nostro fondatore Regiunano, ovvero il diritto internazionale umanitario. Voi raccontate quasi ogni giorno di attacchi ad ospedali, a strutture sanitarie, delle vittime civili che negli ultimi 20 anni sono più che raddoppiati rispetto ai conflitti del passato. Questo vuol dire che sta venendo meno la base dell'etica del vivere insieme e questa è la cosa che a noi preoccupa e che stiamo ricordando, l'abbiamo fatto anche pochi giorni fa, il nostro Presidente internazionale in serie di Consiglio di Sicurezza è stato ascoltato e ha richiamato a gran voce, anche dicendo espressamente che ci sono stati seduti all'interno del Consesso delle Nazioni Unite che violano deliberatamente il diritto internazionale umanitario e questo ha conseguenze catastrofiche. Noi come Europa lo stiamo vivendo purtroppo per via della crisi siriana. Tra l'altro c'è proprio l'appello di tutte le organizzazioni che stanno dando supporto umanitario, mi riferisco chiaramente alla questione in Siria, perché vengano escluse dal conflitto, perché poi, cerchiamo di spiegare perché poi finite anche voi comunque nel mirino? Ma questo è perché colpire le strutture sanitarie, colpire la Croce Rossa, colpire la Mezzaluna Rossa significa comunque fiaccare la popolazione, non dare l'assistenza di base. Guardi, noi siamo abituati quando vediamo le zone di guerra, noi pensiamo immediatamente, ed è giusto, al primo pensiero, ai feriti nel conflitto armato, ma ci sono idealizzati i pazienti cronici, ci sono tantissime persone che dovrebbero essere trattate clinicamente e non hanno accesso alle cure sanitarie di base, quindi non solo noi assistiamo a una guerra di una violenza senza precedenti, ma in più questo tentativo di colpire la popolazione cercando di abbattere tutte le infrastrutture che danno sostegno alla popolazione civile. Da qui, da queste guerre si origina poi, lo sappiamo, il fenomeno della migrazione, voi siete attivi anche su questo fronte, il flusso migratorio, quali sono le emergenze che vi trovate ad affrontare? Sappiamo che per esempio in Italia sono sbarcati altri in questi giorni e la situazione dell'accoglienza è al collasso. La situazione, innanzitutto va fatta una precisazione, se è al collasso è perché si continua ad affrontare questa vicenda della migrazione come un'emergenza, quando in realtà è un flusso ininterrotto per quello che riguarda poi il nostro paese da circa 20 anni, questo tappo è stato tenuto soltanto immediatamente dopo la crisi libica del 2011, c'è stato un momento in cui era stato chiuso, ma nel 2011 stesso si è riaperto, da quel momento ha continuato esattamente come avveniva prima, nel momento in cui l'Europa decidesse di intervenire in Libia. Noi siamo presenti con migliaia di volontari tutti i giorni sui moli, siamo pronti a dare accoglienza, lo stiamo facendo lì, come Croce Rossa italiana, me lo lascio ricordare, siamo presenti anche ai domeni però, non siamo attori soltanto nel nostro paese, ma cerchiamo anche di dare sostegno alla consulella greca che sta facendo un lavoro straordinario a Lesbos, a Chios e ai domeni. L'abbiamo seguita anche noi con i nostri inviati, però ecco, in chiusura, questa giornata voi l'avete dedicata al primo soccorso, cosa intendete dedicare e insegnare alle persone e ai volontari? Noi cerchiamo di insegnare non solo ai volontari, ma alla popolazione civile, la diffusione delle manovre salvavita, noi siamo abituati ad associare la parola crisi a un qualcosa di grande, in realtà la crisi è anche individuale, la crisi è nel momento in cui una persona si trova in condizione di bisogno e molto spesso non sappiamo come comportarci nel momento in cui ci sono delle semplici manovre che in realtà possono fare la differenza tra la vita e la morte e quindi le manovre di rianimazione cardiopolmonare che in sé sembrano una parola enorme, così difficile, in realtà sono poche manovre semplici che in un corso di due ore ciascuno può apprendere e può fare la differenza nel momento del bisogno. Grazie, noi ringraziamo Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa italiana per essere stato con noi, noi ci fermiamo.